Ma come cazzo avete chiuso sto coso? Orcarci e stronzo armato! Chi è che ha scureggiato? Io scusate! C2 senti chi è zaffato? Guarda che mi sa che ha scacciato la pepita! Tuzia! Comenza e apre! Si continuate a far cazzo voi due mi raccomando eh! Madre gnazzacchata lo... Poi gli sbrocca a questi è mezz'ora che stanno a fare sto macello! L'altro non farcine ma ti prego non farcine! E' una piuta di far stracacciare che domani mattina deve far sapresta presto che stacca ai cinque! Semmai attacchi ai cinque! La ciccia allegra è un pannella